ciao a tutti benvenuti sul mio canale oggi in questo video proveremo a risolvere questo problema ovvero a sistemare il braccio della stufa pellet utilizzerò una lastra di circa un millimetro di acciaio per provare a fare una piastrina da inserire all'interno come potete vedere qui dalle immagini sto provo a realizzare una dima in modo tale da poter poi avere una una stima delle dimensioni nella piastrina da realizzare come vedete con un pezzo di cartoncino lo faccio una una stima con il perimetro del cerco di tracciare il perimetro con una matita lo inserisco all'interno in modo tale da modellarlo per avere poi effettivamente tutte le misure perfette che a me interessano quindi ritaglio il cartoncino nella misura giusta successivamente inserisco il cartoncino e vado a tracciare i fori dove andare a fare i fori in modo tale da farli coincidere con quelli reali del bracere poi prendo dei riferimenti quindi con il cartoncino all'interno segno dei punti e poi vado effettivamente a tracciare tutti i punti questi dovranno essere effettivamente i fori successivamente effettuati sulla piastrina a questo punto vado con un normale smeriglio e vado a diciamo a tagliare la piastrina acciaio effettua delle misure e ovviamente preparo lo scasso in prossimità della dell'accensione dove praticamente c'è la candelette in modo tale da non ostruire la candelette quindi poter effettuare l'accensione facilmente a questo punto inserisco la dima sul sulla piastrina che ho tagliato in acciaio vado a fare a segnare con una punta abbastanza sottile i punti dove andare a forare poi definitivamente quindi dopo averli tracciati vado a evidenziare con un pennarello in modo tale da avere una visuale più più approfondita in modo tale da poter a questo punto effettuare effettivamente i fori con un semplice pennarello indelebile vado a tracciare i punti dove avevo fatto delle dei segni con con la punta sostituisco la punta con una punta prima faccio un pre foro sempre con la punta che avevo utilizzato prima a questo punto va effettivamente ad effettuare il foro in modo tale da agevolare poi la punta quella svasata ovviamente per forare il tutto metto dello svito lo mettete dell'olio del lubrificante quello che volete in modo tale da non far riscaldare la punta successivamente metto queste punte a gradini per poter allargare il pre foro quindi avere un foro molto più largo in modo tale da permettere una reazione migliore della stufa quindi fate tutti i fori ne faccio anche qualcuno in più rispetto a quello che avevo segnato in modo tale da avere una reazione questo come potete vedere il risultato ho fatto più più fuori di quanto ne avevo segnati in precedenza successivamente vado a fare lo scasso perché mi ero dimenticato do una piccola sistemata alla piastrina in quanto siano leggermente deformate come potete vedere va entra all'interno perfettamente questa è all'interno della stufa e come potete vedere il pellet cade tranquillamente senza diciamo disperdersi nella parte sottostante del bregere che dire spero che sia utile a qualcuno io vi invito al prossimo video